La prevenzione è l'arma ideale per sconfiggere il cancro, in particolar modo il melanoma e i tumori cutanei. Il supporto che noi riceviamo è la base per poter andare avanti, migliorare i trattamenti, le procedure e assicurare ai nostri pazienti, che purtroppo sono giovani, dei risultati migliori. È una manifestazione che con lo stile di uno spettacolo, di un momento di festa, di un evento, accende la riflessione e l'attenzione su argomenti importantissimi, intorno a una malattia che è ancora molto aggressiva e presente, soprattutto fra i giovani, che è il melanoma. Ideato dall'attrice e cantante Anna Capasso con la direzione artistica di Diego Paura, il premio giunge alla dodicesima edizione e vedrà la consegna di numerosi riconoscimenti a personalità che si sono contraddistinte nei diversi settori, anche fuori regione. Ci saranno tanti ospiti, ma c'è il minio sinni come ospite, tanti premiati come Monica Sarnelli, Paolo Cagliazzo, Laura Klein, sempre con la fondazione melanoma, l'arcobaleno napoletano, sempre una grande famiglia. La manifestazione è dedicata alla memoria di Iliana Bagnaro ed oltre a sottolineare l'importanza della prevenzione, prevede momenti di intrattenimento e la sta di beneficenza, con in palio una maglia autografata donata dal Calcio Napoli.